Ciao, sono Laura del Veneziano e sono qui con il mio ultimo libro, Catarsi, il caso di Alice, pubblicato da pochissimo per edizione Sette Conti. Sono qui per dirvi che è stata organizzata una presentazione del mio nuovo lavoro alla Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno. L'appuntamento è per sabato 9 aprile alle 17.30. Vi aspetto in compagnia di tanti amici per raccontarvi chi è Alicia e che cosa ha da dirci in questo libro.